Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame dell'assestamento di bilancio e votato buona parte degli articoli. Dopo una serie di riunioni che hanno interessato i diversi gruppi, il dibattito si è aperto in aula di Palazzo Lascaris con la discussione generale sul provvedimento. Inizialmente erano stati depositati in Consiglio circa 400 emendamenti, ma nella successiva seduta pomeridiana, dopo un accordo raggiunto tra maggioranza e opposizione, buona parte degli emendamenti sono stati ritirati e si è proceduto alla votazione dei primi articoli. Un bilancio naturalmente fatto dalla precedente amministrazione, un bilancio che però ha visto importanti risorse su problematiche anche recenti, 3 milioni in più sull'idrogeologico, purtroppo la nostra regione è stata colpita da gravi eventi alluvionali, diamo delle risorse in più per il soccorso alpino, diamo la copertura totale per le borse di studio, l'intenzione nostra naturalmente sarà per il prossimo anno di rivedere le graduatorie perché le borse di studio vanno agli studenti meritevoli e che non sono fuori corso. Abbiamo cercato di incidere su alcune partite, abbiamo quindi tenuto conto di quelle che sono le associazioni locali, quindi si è intervenuto aumentando il capitolo del proloco, abbiamo aumentato lo stanziamento per l'acquisto degli scuolabus, quindi va a beneficio soprattutto dei comuni più periferici, abbiamo inserito fra le spese obbligatorie le spese che riguardano i capitoli della protezione civile e speriamo poi di intervenire in modo più significativo col bilancio preventivo del prossimo anno. Questo assestamento di bilancio ci ha visti evidenziare due aspetti, non vengono diciamo così spesi in investimento tutti i soldi che si potevano spendere, lo abbiamo evidenziato con riferimento alle spese per la neve, per la montagna, per gli estralea, quindi per l'assistenza domiciliare e dall'altro ci sembra che sotto questo profilo quindi vengano anche incrementate quelle che sono le cosiddette spese correnti. Ci siamo concentrati soprattutto per chiedere quelle che sono per noi le vere priorità per il Piemonte, ovvero affrontare quello che è il dissesto idrogeologico, infatti abbiamo chiesto un emendamento con 3 milioni di euro per interventi sul dissesto idrogeologico che per noi sono le vere opere necessarie per il Piemonte. L'esame del provvedimento di assestamento del bilancio regionale proseguirà la prossima settimana.